CAMST presta grande attenzione alla qualità dei prodotti, oltre che alla loro sicurezza, bontà e rispetto per la tradizione. La selezione e il controllo sulle materie prime e sui fornitori rappresentano un tassello importante del sistema qualità aziendale del gruppo CAMST, oggetto della certificazione secondo le norme UNI e NISO 9001-2000. Oltre a disporre di prodotti biologici a lotta integrata, prodotti tipici DOP, IGP, STG, DOC e prodotti per diete speciali, senza glutine, latte, uovo, zucchero. CAMST preferisce utilizzare prodotti OGM-free e richiede ai propri fornitori di sottoscrivere un codice di condotta etica.